In ambito medico-scientifico la divulgazione permette di fare arrivare a un pubblico ampio informazioni e notizie utili per la vita di tutti i giorni e per migliorare la salute prevenendo le malattie o affrontandole al meglio. Una missione che oggi più che mai si compie con media e strumenti diversi, dai social network ai libri, dalle conferenze alle trasmissioni di salute. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top prodotto da Little Press Eliana Liotta, giornalista e scrittrice. Cosa ti ha portato a scoprire? Come sei arrivata a occuparti di divulgazione scientifica? E tanto come sempre è il caso nella vita che ti porta da una parte o dall'altra, spesso. Però se ti devo dare una motivazione più profonda direi che è la curiosità, è la voglia di sapere, di conoscere e poi anche di raccontare perché quando noi parliamo di scienze della vita e della salute in realtà raccontiamo le meraviglie degli esseri umani. Noi se ci pensi siamo una specie non particolarmente veloce, non particolarmente forte, però il nostro grande vantaggio è quello di poter apprendere attraverso l'esperienza ed è quello di intessere le relazioni sociali e come tu sai benissimo entrambe queste caratteristiche ci servono a stare meglio. Ecco, un medico si occupa di una cosa specifica, mentre io raccontando da giornalista e da scrittrice posso avere una visione di insieme. Senti, ma approfittando magari per far vedere la copertina, se la regia ci propone la copertina della dieta Smart Food, Eliana in che posizione possiamo immaginare si trovi l'Italia nell'ambito della divulgazione scientifica? Siamo primi o ultimi? Siamo stati secondo me abbastanza in basso in Europa, nei gradini della divulgazione scientifica lo abbiamo visto durante il Covid purtroppo, però stiamo migliorando. Ne è un esempio il fatto che siano nati dei master di comunicazione delle scienze della vita e della salute in giro per l'Italia. Io insegno all'Università di Parma, proprio editoria scientifica, e anche all'Università San Raffaele. Sono laureati in filosofia, in biologia, in medicina, in tecnologie biomediche. Quindi è un trust che proviene da un sacco di... Da un sacco di... hanno fatto varie facoltà e poi hanno deciso che la loro passione era quella di raccontare la scienza. Grazie! Grazie a tutti.